Selvaggia Lucarelli torna in kibu nel salotto di Caterina Balivo a Vienidame e dirà la sua su quanto è accaduto a Domenica in potrebbe accadere abballando con le stelle e amici? Novità importanti in arrivo nel pomeriggio di Raiom dove, dopo la mancata ospitata di Maria De Filippi per cause di forza maggiore, sembra che Caterina Balivo avrà modo di ospitare e intervistare Selvaggia Lucarelli a Vienidame. Il programma tornerà in onda oggi, 23 ottobre, dopo l'edizione delle 13,30 del Tg1 tra il gioco del cassetto, ospiti e il gioco da casa per indovinare gli inedizi e la casa dei VIP della settimana, ma proprio tra una cosa e l'altra prenderà posto sul divano Selvaggia Lucarelli. L'opinionista è pronta a raccontarsi un po' alla conduttrice alzando il velo anche su quello che è la sua vita dal lavoro ai social che le sono tanto cari. Proprio in queste ore ha avuto modo di prendere le difese di Nadia Toffa contro alcuni haters mostrando poi le loro foto sui social e sui suoi profili ma, intanto, quello che tutti si chiedono è il suo prossimo lavoro in tv. Punto haters e lavoro in Tu Selvaggia Lucarelli avrebbe dovuto essere a Domenica Inn, al fianco di Mara Vernier, come opinionista fissa del suo programma ma così non è stato per via di questi economiche e di contratto e, a quanto pare, potrebbe rinunciare a suo posto a Ballando con le Stelle. Secondo quanto si vocifera nelle ultime ore, la giornalista potrebbe lasciare il programma di Millie Carlucci per dedicarsi a quello di Canale 5, rivale, ovvero Amici 18 al via la prossima settimana. Naturalmente, al momento, si tratta di rumores che potrebbero trovare conferma, verticirai permettendo, proprio oggi avvieni da me. Cos'altro rivelerà Selvaggia Lucarelli? Al momento non ci sono indizi, né comunicati o video che possano rivelare qualcosa quindi l'appuntamento è per le 14,00 di oggi avvienidame.copyright riproduzione riservata. Grazie a tutti.